Dopo 38 giorni di assenza torna il contagio da coronavirus nella provincia di Barletta Andrea Trani, il cui paziente positivo va aggiunto a quelli riscontrati in provincia di Bari e in provincia di Lecce per il dato regionale che il 4 luglio parla di tre nuovi casi. Il bollettino epidemiologico odierno porta a 4536 il totale dei pazienti pugliesi di cui 3880 guariti, 111 attualmente positivi e 545 deceduti. Un solo paziente è guarito nelle ultime 24 ore, nessuno invece risulta deceduto. 21 è il totale dei ricoverati, 89 è quello dei domiciliati. Con il nuovo caso odierno la provincia di Bari resta la più colpita dal punto di vista numerico e sale a 1494 positivi complessivi. 381 è ora il totale dei pazienti nella provincia di Barletta Andrea Trani, 522 quello della provincia di Lecce. Tutto invariato nelle restanti zone. Da 13 giorni fermo a 660 il totale dei casi in provincia di Brindisi. Da 11 giorni a 1169 è invece fermo il dato complessivo della provincia di Foggia che resta la più colpita della regione in rapporto alla popolazione. Zona meno colpita dal coronavirus e con un totale di 281 casi invariato da 9 giorni è la provincia di Taranto. I 1820 test odierni portano a 186.569 il totale dei tamponi effettuati in Puglia.